Fornaro è il primo vincitore della prima prova del campionato italiano Gentleman. Col vecchio tu sei tu bigi, quando si dice vincere col cuore. Un cavallo straordinario, un cavallo che qua a Palermo è stato sempre un beniamino del pubblico. Adesso corre poco per via dell'età e degli acciacchi, ma ancora una volta ha dimostrato la sua classe soprattutto lottando veramente come un leone in retta d'arrivo. Vittorio, le tue impressioni e complimenti innanzitutto. Grazie per i complimenti, buongiorno a tutti. Il merito è del cavallo che è veramente un cavallo dal cuore d'oro. Anche se mille battaglie e tanti acciacchi, lui li ha portati fin sul palo. Se li ha messi da parte mi ha portato al palo. Quindi prima di tutto i complimenti al cavallo e all'allenatore. Vittorio, è la prima volta che corri a Palermo? Assolutamente sì. Prima volta che sono sceso sulla pista e devo fare i complimenti comunque all'handicapper che ha messo su degli inviti abbastanza omogeni e che danno una possibilità a tutti noi di giocarci la vittoria finale. Poco fa a Bocceferme parlavamo dei tuoi impegni in giornata. Sono tutti cavalli che possono avere chance e quindi parti con un bonus da 15. Quindi puoi giocartela fino in fondo. Assolutamente sì. Ti dico la verità, da Taranto sono partito con molta fiducia perché effettivamente i cavalli sono tutti abbastanza in corsa. E quello già è un fattore importante. Partecipare con dei cavalli che possono dire la loro è fondamentale. Grazie Vittorio e complimenti ancora. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.